Adesso ha fatto Vuoi impastare, vuoi prendere quando fare un silicone? Ok Ma ora Si Aspetta, 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 aspetta Il cucchiaino c'era Avete pazienza? Il tempo vuoi? Il tempo vuoi o come le pasta adesso un guanto? Ma invece cosa fate? Il cemento Cosa serve? Un guanto, faccio vedere io, faccio vedere io Cosa serve? E si, ma l'ho trovato Certo Certo, bravo Dove l'hai preso quello? Qua sotto? Bene, sono stata Dove c'è Vanessa? Si Eh si, per un secondo così ti riprende mentre Brava Vedi che E tanto che voglio stare E non lo fare Prego un gioco Pinta Io ci sono Quando vorrete Vieni Vieni a tirare Sì Quanto? Non andava a giocare Per capirci Per capirci Corone Ponte Circolari Deve essere tutto di un colore Sì 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 Si impasta fino a quando dentro Un genere Corone E' un colore Corone 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 Sì, sì, apri bene.